Quella di oggi sarà una puntata bella e sublime. Sigla! Qualche anno fa, con l'obiettivo di indagare i misteri della mia mente e di trovare un equilibrio interiore, mi sono sottoposto a delle sedute di musicoterapia. Lungi dal capire come mai mi piaccia mettere il parmigiano sulla pasta col tonno, il processo di esplorazione della mia mente ha messo inevitabilmente in moto dei processi irreversibili. Ho cominciato quindi a pormi delle domande molto più frequentemente rispetto a quanto avessi fatto in passato, con il risultato che le mie scelte hanno cominciato ad essere più consapevoli. Tra il 2013 e il 2014, in un anno che per me è stato di svolta, mi sono chiesto cosa potrebbe contraddistinguerti nel mondo ormai saturo delle arti visive? La risposta è stata abbastanza semplice, che ero in grado di fare sia fotografia che video. Da quella risposta sono partito per lanciarmi nel mondo del timelapse, l'ibrido perfetto in questo senso, perché partendo da immagini statiche riesce a creare un mondo dinamico. Ma non mi sono fermato lì perché ormai il processo era in movimento e ho cominciato a studiare quelle dinamiche che potessero portare me, ma in realtà tutti noi, a scegliere delle caratteristiche peculiari nella natura. Lavorando anche in campo editoriale, mi sono ritrovato più volte con la richiesta di immagini collinari. Adesso vi sembrerà strano, ma io ho pochissime immagini scattate in collina, come potete vedere molto facilmente dal confronto tra le mie migliori immagini collinari dell'Abruzzo e le mie migliori immagini di montagna. Ma questo non è affatto casuale e per spiegarvelo devo fare un enorme salto indietro e arrivare a fine anni 90. Il mio passato, prima di diventare fotografo e videomaker, era accademico. Ho studiato lingue e letterature straniere e per un periodo piuttosto lungo della mia vita ho anche insegnato, cosa che ovviamente adesso mi torna utile nei miei corsi e durante i miei viaggi. In quegli anni, durante i quali passavo molto tempo sui libri, ho avuto la fortuna di affrontare alcuni temi che sono riuscito ad apprezzare pienamente solamente alcuni anni dopo. Per un esame di letteratura inglese mi trovai a studiare un'opera di Edmund Burke, scrittore, filosofo e politico inglese di origine irlandese. Nel suo Un'indagine filosofica sull'origine delle nostre idee di sublime e bello, Burke ci spiega come l'impatto del sublime sia sull'animo umano molto più forte rispetto a quello del bello. Senza addentrarci nel percorso molto complesso dei riferimenti storici, è opportuno spiegare come questa divisione fosse idealmente tra le forme rassicuranti del neoclassicismo e quelle poderose del romanticismo. Non è un caso se il gotico inglese nasce proprio a cavallo del XVIII e XIX secolo, in questo periodo di transizione. Ma in termini visivi, in cosa si differenziano bello e sublime? Il bello è rappresentato dalla regolarità, da forme stondate e proporzionate. Il sublime invece prende la propria forza dalla sproporzione, dalla potenza degli angoli, da linee marcatamente irregolari. In pieno accordo con quello che afferbava Burke, io preferisco il sublime al bello. Amo la montagna aspra e con picchi estremi, amo le scogliere altissime che si affacciano pericolosamente su un mare tempestoso, amo in generale le condizioni atmosferiche estreme, perché sono uniche. Poi sono molto spesso le proporzioni, o meglio, le sproporzioni a donare forza a una visione, a un'immagine, a un paesaggio. E quindi l'aggiunta dell'elemento umano, le cui dimensioni sono pressoché standard, sono il punto di riferimento perfetto. In generale, personalmente, amo meno le forme morbide, stondate, regolari, perché ritengo che i paesaggi, tra loro, risultino molto più simili e non fanno scattare dentro di me quella scintilla. Ma al di là della mia preferenza assolutamente personale per il sublime, io credo che un valore aggiunto per un paesaggio sia la sua unicità. Se ho davanti a me un mare placido al tramonto senza ulteriori elementi, una foto scattata sull'Adriatico e una scattata in una riserva naturale a Monterey negli Stati Uniti possono essere indistinguibili. Se non vi avessi fatto questa premessa, mettendovi ovviamente una pulce nell'orecchio, sono certo che avreste detto che la foto scattata in Abruzzo era quella di destra, mentre quella scattata in California era quella di sinistra. Quando invece un paesaggio ha una caratteristica unica, i nostri sensi attivano il nostro sense of wonder, l'emozione che proviamo davanti a una meraviglia. Penso a questa magnifica spiaggia scozzese, la Skintyre. Se analizziamo questo magnifico angolo delle ebridi, possiamo riuscire a capire subito quali siano le sue caratteristiche speciali e uniche. Dune altissime, che si affacciano su una spiaggia di sabbia che diventa enorme con la bassa marea e con la linea dell'orizzonte accompagnata da montagne che finiscono direttamente in mare. Impressionante e sublime, mi verrebbe da dire. Una storia che mi piace sempre raccontare mi fa tornare indietro al 2010. Io e il mio amico Gianluca, che mi ha suggerito di utilizzare questo aneddoto per la puntata, eravamo alla premiazione di un concorso dove entrambi eravamo arrivati in finale. Nella sala c'erano esposte tutte le foto e abbiamo potuto constatare come le nostre non fossero tra le vincitrici. Al momento della premiazione, il presidente di giuria chiamò sul palco l'autore della foto del lago di Campotosto. Ok sì, ero io ovviamente. Era un concorso che doveva rappresentare l'Abruzzo e mi venne detto che questa foto, seppur molto bella, non rappresentava l'Abruzzo perché sembrava scattata in Islanda. Anche se in quel momento la cosa mi fece arrabbiare molto, in realtà ha presi la cosa negli anni come un complimento. Quella foto, seppur non straordinaria, rappresentava il sublime in natura ed è assolutamente la caratteristica che io preferisco. Un paio d'anni fa eravamo sull'isola di Sky insieme a Fortunato Gatto e stavamo girando questo video per Leofoto. Nell'ultima giornata di riprese abbiamo deciso di salire all'Old Man of Storm, uno dei luoghi che incarnano meglio il concetto di cui si parla in questa puntata. Mentre salivamo nel buio della notte, una scena si è composta da sola davanti ai miei occhi. Quella vista mi ha colpito immediatamente, non solo per la forza del massiccio di roccia imponente nelle proporzioni rispetto alla figura umana di Fortunato, ma anche perché mi ha richiamato subito un riferimento all'architettura umana che inevitabilmente prende spunto dalla natura, soprattutto nelle sue forme più estreme. Mont Saint Michel, un borgo costruito su un isolotto che può essere raggiunto via terra solo con la bassa marea, meriterebbe una storia a sé, ma ve la racconterò un'altra volta. Prima di salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana, voglio condividere con voi alcune visioni sublimi che i miei occhi hanno incontrato nel corso degli ultimi anni. Grazie a tutti. Spero che queste visioni, belle e sublimi, siano riuscite a ispirarvi. Io vi do appuntamento la prossima settimana, ma prima di andare via vi ricordo di iscrivervi al canale. Alla prossima!